La prima operazione da fare in pratico, al primo avvio ovviamente, è quella di andare a gestire le impostazioni utente. Cliccando su impostazioni utente ho la possibilità di andare a inserire tutti i dati del tecnico che andrà a compilare quelle che sono le pratiche. Questi dati poi ovviamente verranno trasportati all'interno dei titoli abilitativi che si andranno a compilare. Quindi tutti i dati del professionista che sta utilizzando il software, i dati di iscrizione al collegio ordine, i dati dello studio. Importante all'interno delle impostazioni utente è disponibile quella che è l'importazione dei dati dalla versione 1 di pratico. Adesso siamo alla versione 2, questo bottoncino consente a tutti coloro che hanno una precedente versione di pratico di andare a lavorare con la versione 2 senza perdere nulla di ciò che è stato fatto con la versione 1. Quindi cliccando su questo bottoncino importeremo tutti i clienti, tutte le pratiche già fatte con la precedente versione del software. Grazie.